Per il secondo intervento, quindi per 5 minuti, Gianfranco Spadaccia, a seguire Maria Leoni Erendi, Valeria Manieri e Valerio Federico. Prego Gianfranco. Per un chiarimento, perché mi è sembrato che in alcuni interventi fosse stato recepito male il mio discorso sui fini, sembrava quasi che io sottovalutassi l'importanza del percorso che Fini ha fatto e dell'evento, io avevo premesso dicendo che condividevo il giudizio di Marco che era l'unico evento politico significativo di questa stagione. Tant'è vero che ho detto, e cito testualmente le cose, ha scelto di rappresentare da posizioni minoritarie un'alternativa culturale ma nel senso di una cultura istituzionale e politica democratica che si contrappone a una cultura. E siccome lo fa da posizione di minoranza e da una posizione di forza che è anche quella del Presidente della Camera ha scelto di farlo nel medio periodo, ponendosi l'orizzonte del cambiamento italiano dei 15 anni. e naturalmente come tutti i seri, orizzonti politici, obiettivi politici e 15 anni vengono alimentati giorno per giorno e sta crescendo la sua iniziativa su questo. È una sponda importante che abbiamo sul centro-destra, ma è una sponda speculare a quelle che noi dobbiamo cercare nel centro-sinistra. E io insisto nel dire, ma devo dire che da questo punto di vista lo sviluppo del discorso e del confronto che abbiamo avuto mi tranquillizza che il nostro primo problema, il nostro primo punto d'attacco è nel centro-sinistra. Sono meno antipartitocratico di voi? No. Io ritengo che se vogliamo davvero combattere in questa fase dello sviluppo della partitocrazia e Marco ha detto Berlusconi sta su un'autostrada a folle questo è il cambiamento è l'accelerazione sono termini che ormai condividiamo sono contento di aver contribuito con le mie posizioni a questo confronto non è solo una... Allora il primo punto d'attacco della nostra lotta alla partitocrazia ci riusciremo o non ci riusciremo ma è liberare il partito democratico il centro-sinistra, la sinistra da un sistema partitocratico che la rende impotente e la rende prigioniera di meccanismi che la condannano alla sconfitta di fronte a Berlusconi e al neopopulismo che attacca l'Italia questo è il punto se noi mettiamo tutti sullo stesso piano noi ci mettiamo in una situazione in cui perdiamo la sintonia con quella parte con quella parte del centro-sinistra e della sinistra che condivide i nostri principi anche i nostri obiettivi e in questo quadro siccome faccio la fine in fondo perché poi ognuno esistono le sofferenze di tutti ma esistono anche le sofferenze delle sensibilità come la mia voglio dire una cosa che ieri ho visto un'immagine avevo parlato dell'immagine di Deborah Cecchitano e confermo tutte le cose che ho detto ritengo che quella immagine mediale mediatica, non preparata sia stato un fatto rivelatore e molto importante e spero che abbia sviluppi positivi all'interno del PD ma ieri ho visto un'immagine alla manifestazione un po' denigrata non solo da Brunetta purtroppo anche al nostro interno quella della CGL ho visto arrivare insieme a una marea di giovani non solo di vecchi e di pensionati un gruppo folto di operai neri delle fabbriche del nord e io devo dirvi compagni che il mio vecchio cuore di socialdemocratico perché ero socialdemocratico quando cominciai a interessarmi a 15 anni di politica ieri ha battuto perché non sempre il sindacato io sono quanto voi salveminiano è soltanto e necessariamente è soltanto e necessariamente corporazione a difesa dei penultimi privilegiati e forza di conservazione a danno degli ultimi a volte sa essere come è stato a lungo nella storia italiana forza di emancipazione del proletariato e delle classi e delle classi subalterne e ieri quando io ho visto questo e questo è una funzione importante allora vorrei che stessimo attenti perché in una situazione di crisi in cui i primi colpiti sono milioni di giovani lavoratori a contratto indeterminato e in cui si producono ogni anno e in cui si producono ogni anno centinaia di migliaia centinaia di migliaia allora c'è un terreno di confronto con la CGL e col sindacato ed è quello mio e vostro ed è quello mio e vostro non fare quella faccia Marco che cavolo dici è una domanda precisa li rappresenta la CGL no io dico che il terreno di confronto con cui la CGL e che dobbiamo avere con la CGL è ammortizzatori sociali e riforma delle pensioni ma non è il terreno di confronto che dà per scontato che il sindacato e la CGL non debba arrivare a rappresentarli non debba assumersi il compito di rappresentarli allora questa cosa qui non è una cosa perché insomma poi alla fine se mi consentite io non sto dalla parte di Brunetta e credo che non ci state neppure voi allora questo è il mio terreno perché poi c'è un altro terreno su cui il sindacato va ed è quello della democrazia sindacale perché badate non si può chiedere come fa Brunetta il referendum per lo sciopero dei servizi pubblici e poi negare il referendum quando si fanno gli accordi separati perché insomma se siamo americani e se siamo democratici e se crediamo e se vogliamo che l'articolo 39 sia realizzato è in questa direzione che ci dobbiamo muovere grazie Gianfranco